Si aggirano di notte in gruppo per le vie della zona seminando il panico tra i residenti. Succede nella località San Marco dove una decina di cinghiali sono stati avvistati in diverse occasioni nel cuore della notte per le strade della Contrada. Un episodio che sta allarmando i cittadini residenti, i quali temono per la propria incolumità e per quella dei loro animali domestici. C'è chi è riuscito dal giardino della propria abitazione a filmare tutto. Pare che negli ultimi mesi questi cinghiali si siano avvicinati sempre di più alle recinzioni delle abitazioni. Una situazione che chiaramente preoccupa non poco i cittadini, posto che la presenza degli animali selvatici mette a rischio sia la sicurezza degli abitanti della zona sia quella degli animali padronali. Alcune famiglie hanno cercato di prendere precauzioni per proteggersi e per tutelare i propri animali domestici, ma gli avvistamenti sempre più frequenti e la presenza persistente di questi cinghiali ha spinto qualche residente a segnalare la situazione alle autorità competenti affinché possano prendere in considerazione il problema e adottare misure adeguate per gestire la situazione. Un fenomeno che dunque continua a registrare nuovi episodi risale alla scorsa estate l'avvistamento di cinghiali a largo della costa di località Timpi Russi. Analogo episodio qualche mese dopo anche nella spiaggia della Foggia, ma quello più curioso rimane l'episodio dello scorso mese di aprile quando un cinghiale venne avvistato lungo il viale delle Terme.